buon pomeriggio amici di bdr channel eccoci ancora in diretta per queste fasi finali del biliardo scuola 2022 in diretta appunto per trasmettervi questa prima semifinale tra veneto e lombardia ricordiamo le classifiche finali dopo la prima fase a gironi al primo posto si è classificata la campania al secondo posto il veneto al terzo posto la lombardia al quarto posto il piemonte quindi nei semifinali saranno campania contro piemonte e veneto e lombardia quelli che vedete stanno giocando appunto una parte della semifinale le altre le altre partite le giocano i loro compagni di classe d'istituto appunto in altri tavoli qua al palazzetto di cervia è tutto pronto per iniziare è cambiato anche l'abito dell'incontro è il signor vito famiglietti è un giocatore appartenente alla categoria dei master della puglia e i giocatori che le giocatrici in questo caso che si stanno disputando appunto questo questa parte della semifinale sono ginevra ceolato della regione veneto e aurora beltramini per la regione lombardia abbiamo avuto sul televisivo all'inizio di questa mattina la la sorella gemella di aurora che è ma che si è ben comportata tra l'altro gemma realizza il pallino da 4 aurora scordiamo i sette non sono state allungate ai 60 punti ma abbiamo mantenuto la stessa distanza dei dei 50 punti sono tantissimi i ragazzi che sono giunti per giocarsi queste finali nazionali dei campionati studenteschi sono in tutto 93 appartenenti a quattro discipline si sono aggiunti anche i ragazzi delle boccette dell'emilia romagna sono appunto la stecca il pulle la carambola e anche appunto le boccette su quattro specialità 93 ragazzi sono molti di più invece i coloro che invece hanno giocato per tutto l'anno e hanno aderito al progetto scuola sono 1800 di studenti 32 gli istituti coinvolti in questa fase finale sono accorsi 93 giocatori provenienti da 21 istituti ed esattamente da 11 regioni 4 a 2 il parziale per aurora beltramini che è impegnata in questa posizione di steola cinese quindi deve alzare il calcio della stecca evitare di toccare con la stecca il pallino e non ci riesce fa un errore abbastanza vistoso purtroppo per lei regala 12 punti fa una steccaccia regala 12 punti la sua avversaria e potrà soffrire quest'ultima anche di una biglia libera tra l'altro potrebbe anche mantenere lì la la biglia realizzare un 2 e lasciare la sua biglia intorno al castello vediamo se se sarà di questa idea sta valutando la posizione ricordiamo alla fine dei gironi eliminatori prima la prima alla regione prima classificata di questi campionati studenti che è stata la campania che se la vedrà con il piemonte nell'altra semifinale che si sta disputando le partite che si stanno disputando negli altri tavoli regala quattro punti alla sua avversaria la ginevra il parziale di 14 a 8 sempre per la seolato aurora impegnata in questa conclusione frontale e vediamo se passa il girone c'è un piccolo rimpallo che preclude a aurora di realizzare punti ma quel che è peggio è che lascia un tiro di fisso abbastanza fattibile a ginevra 4 18 il parziale può prendere un consistente vantaggio dopo questo tiro ginevra ciolato è purtroppo però prende una quantità troppo scarsa di biglia e lascia una buona opportunità ad aurora che nella prova bigliardo ha tirato fuori qualche conclusione questa certo non è facilissima però abbiamo visto in prova bigliardo eseguire molte raddrizzate molto molto bene realizza tre punti ne si porta a 11 14 11 il parziale ricordiamo anche che tutti gli studenti sono accompagnati sono accompagnati da un docente e anche dal coordinatore regionale per questo caso il veneto come docente accompagnatore è il professor giovanni magnetto e anche il professor mirco faccine per quanto riguarda il pool mentre il coordinatore regionale è giorgio pizzolato che abbiamo avuto ai nostri microfoni nella nella partita precedente ci ha raccontato un po di di tutto questo bellissimo progetto per i giovani che va avanti per gli studenti che va avanti ormai da un decennio e si sta sviluppando sempre in più in più in più regioni mentre per quanto riguarda la lombardia il docente di riferimento i docenti di riferimento si è perché la lombardia porta una squadra per la stecca una squadra per il pool per quanto riguarda la stecca il docente di riferimento è il professor gaetano francioso mentre il coordinatore regionale è il signor varte rugolini per quanto riguarda invece il pool il il professore di riferimento è il professore aurelio montalbano ancora 14 a 11 il parziale impegnata in un traversino bel tramini decide di giocarlo piano di giocarlo piano gioca anche abbastanza bene realizza due punti conservando una difesa centrale di accorcia ancora di più le distanze mette in difficoltà una propria collega che sta cercando una via per poter toccare la viglia avversaria tra un po credo che avremo anche una piccola sorpresa adesso ci deve comunicare quando è disponibile però avremo sicuramente un collegamento dal remoto volante fabian insieme a gialluca che ha seguito qualche partita questa mattina ci ha salutato però insomma vogliamo portare il saluto di gialluca che è a casa quindi vediamo se riusciamo a collegarlo a prendergli due battute al volo e tra circa una mezz'oretta avremo ai nostri microfoni anche il presidente della federazione andrea mancino e cerca di prendere la biglia ginevra ma non ci riesce direttamente dalla corta regala quattro punti alla bel tramini quest'ultima potrà usufruire di una di un tiro libero 17 14 e bella conclusione di raddrizzata di seconda e terza strike per per la beltramini realizza 12 punti la più bella conclusione dell'incontro forse anche la più bella conclusione tutta la manifestazione di tre passate e mezzo 12 punti bravissima davvero bravissima è giusto per non rimanere solo perché non mi lascia solo dopo l'esperienza che abbiamo avuto ad ancona o qui con me simone cardelli buonasera ciao simone di solito io e te commentiamo abbiamo commentato le boccette però giustamente ti ho chiamato per prendere due parole anche su questa bella manifestazione che ha visto nell'arco di tanti giorni vedete il dal tabellone che c'è in sovraimpressione proprio in alto questa chermessa incominciata a metà maggio e quindi ha visto ha visto coinvolte soprattutto le boccette si dice questo che l'appuntamento storico delle boccette romagnoli in particolar modo ma nazionali per tanti altri tipi di competizioni è una location che è che piace molto l'ambiente il palazzetto i tantissimi biliardi montati la l'ambiente che fa respirare biliardo e sport quindi buona buonissima cosa poi oggi arrivare qui e vedere tutti questi ragazzi impegnati il biliardo in tutte le specialità che sia il pool che sia le boccette che siano stecca fa fa veramente piacere perché quanto avremmo voluto alla nostra età vivere un'esperienza così con i nostri compagni di scuola ne parlavo poco a poco a poco mia moglie che diceva quasi quasi tornerei studentessa lei che ha vissuto l'ambiente della sala biliardi perché il papà era una sala biliardi però avere questa fortuna comunque di avere qualcuno che ti insegna perché poi il biliardo è bello perché lo si può anche insegnare ma è solo talento quindi vedere l'approccio la fisica tutto quello che c'è intorno al al gioco stessa buonissima cosa oltre che la psicologia perché poi come in tutti tutti gli sport anche l'aspetto psicologico su tutto il biliardo la può fare da padrone oltre che al braccio certo sì in effetti ho provato molta invidia sono molto contento di vedere tanti ragazzi per lo più minorenni hanno tutti 16 17 anni insomma mi sarebbe piaciuto ai miei tempi quando si parla prima dell'anno 2000 non so per te ma per me si tratta prima del 2000 vive un'esperienza così insieme ai miei compagni di classe di studio insomma sarebbe stato veramente bello sono contento perché questi ragazzi ne hanno la possibilità che in tante altre specialità ora tu sei chiaramente un giocatore un appassionatissimo di boccette però insomma io sono molto contento di vederli anche ad operarsi nel pool e nella carambola senza la carambola molto affascinante io come dirigente territoriale fibis occupo di tutte le di tutti gli aspetti tutte le specialità della nostra federazione e pratico le boccette vertida anche a buon livello secondo me ma sono appassionato ma passione sono interessato tutto quello che è l'ambiente stecca carambola quella carambola secondo me proprio è il nome usurta forse della conoscenza del biliardo certo ho visto tantissimi ragazzi anche al pool che forse è quella specialità che magari riesce ad avvicinarci io tra l'altro nella pausa pranzo ho fatto anche una partita con i ragazzi in due contro due hai fatto fatica standi dietro? no no il mio socio ha fatto tutto lui le ha imbucate tutte lui a parte la prima che era proprio a spingere che ce l'ho fatta però mi sono davvero divertito insomma è bello vedere questa tutta questa gioventù di solito le sale ai biliardi non è la media d'età delle sale ai biliardi è un po' altina è così perché poi perlomeno adesso è l'ambiente boccetto ma credo che lo era anche per la stecca un tempo si frequentava il bar il bar aveva il biliardo e ti avvicinavi giocando perché i ragazzi molto spesso vivevano il bar quindi erano lì dentro ma non per far chissà cosa certo passavano parecchie ore lì e si avvicinavano ora non è più così i bar non sono più solo sala biliardo ma sono tutt'altro però l'essere sport ci porta a questo ci porta avere la sala ci porta avere l'istruttore colui che ci fa approcciare certo magari non saremo interessantissimi per i più però però intanto essere strutturati per far vedere che comunque sia dietro c'è un mondo di conoscenza un mondo delegato alla scuola con il progetto con il MIUR un mondo di strutture federali che sono capaci di insegnare a tutti poi a me piacerebbe essere ragazzo non solo per avere meno anni quanto per qualcuno che mi insegna il biliardo certo sì le nostre conoscenze diciamo sono state dal guardare i campioni della sala dal carpire qualcosa dal fenomeno di turno che avevi nella zona e più che altro le nostre conoscenze sono basate soprattutto sull'esperienza insomma un apprendimento empirico quello non chiaramente didattico come stanno vivendo questi ragazzi insomma no è bello è bello vedere questa quantità di giovani entusiasti tutti i vestiti con le stesse magliette rappresenta rappresentare la loro regione il loro istituto è veramente molto bello noi lo facevamo a miei tempi però in altri sport se andavo a giocare a calcio a basket facevamo questo tipo di esperienze però insomma l'offerta formativa che c'era forse solo quello quindi anche il vantaggio avere una differenziazione di esperienza formativa dal punto di vista sportivo e poi fondamentalmente questo bisogna trattarlo come uno sport e non toglierci un po con lo stereotipo della sala fumosa come a volte si dice parla del gioco d'azzarbo che non è più così da una valanga di anni ora bisogna avere conoscenza bisogna avere un fisico adatto a giocare quindi resistenza anche nel tempo una mente libera e lucida nel fare certi tipi di scelte e considerazioni e quindi è importantissimo di proseguire per questa strada qua allora guarda se tom gira la telecamera possiamo vedere anche le fasi della della finale tra tra gallo e scarlatta che si stanno giocando la finale della carambola è venuta la nostra valentina spada ad avvertirci qualche volta disturba anche però dai no no la valentina non disturba mai assolutamente la nostra super vale non disturba mai gallo cristofer contro eccola qui che tra l'altro credo non sia carambola a tre sponde ma sia carambola e basta adesso qui ti chiedo aiuto ti chiedo aiuto per la differenza tra la carambola e basta forse perché non c'è l'obbligo della non c'è l'obbligo delle tre sponde sì sì è una carambola carambola diretta che insomma già a farla a tre sponde giocassi almeno io potrei fare una carambola ogni 60 tiri cioè quindi a volte faccio fatica a capire da dove vengono fuori tutti i dettori veramente riescono a fare con quella stecca eh riescono a fare delle cose importanti in realtà è sgarlata marco arrivata a 49 aurora beltramini che ha fatto poco fa il il tiro più bello di tutta la manifestazione era raddrizzata di con strike 12 punti a più passate di tre passate e mezzo e da lì ha costruito la la rimonta e appunto sta cercando di arrivare alla vittoria mancano solo manca solo un birillo a aurora per aggiudicarsi questo match per la per la sua regione la regione lombardia e vediamo se sarà questa l'occasione giusta per ricavare il birillo che gli manca ed è proprio questa realizza otto punti bravissima bravissima aurora vince la partita va a 57 e quindi si aggiudica porta il punto alla alla sua regione molto soddisfatta anche un po' si è un po' anche lasciata andare era molto tesa prima dell'inizio di chi perde dalla mano ma un po' risentito sicuramente il sorriso di chi comunque si è divertito sicuramente infatti vanno a condividere poi con i propri colleghi le emozioni di questa partita giocata sul nostro bigliardo televisivo allora noi vi diamo l'appuntamento a tra poco per un altro incontro che vedrà impegnato un rappresentante della campagna e uno del Piemonte e do l'appuntamento anche a più tardi a Simone che ormai ti ho ingabbiato e rimarrai con me rimarrai con me anche più tardi quindi ci vediamo davvero tra poco su BDR Channel il canale del bigliardo il canale del bigliardo il canale del bigliardo grazie a tutti